Galeotto fu lo show condotto da Paolo Bonolis, Arena di Verona, lo spettacolo sta per iniziare, Reus e così possiamo dire di aver avuto al suo fianco due prime donne come Belene e Elena Santarelli. Le due, amiche fino ad ora, sembrerebbero infatti in rotta di collisione da quando è calato il sipario sul programma. Come riporta il sempre ben informato da Gospia, pare che Lady Corradi sia andata su tutte le furie perché durante la messa in onda del promo dello show è apparsa solo la sua collega argentina. In più, come se non fosse già abbastanza pubblica l'onta subita, il suo nome non compare neanche tra i titoli di coda. A questo punto sembra che subito dopo i saluti finali, Belene e Elena Santarelli abbiano litigato. Non abbiamo ancora conferme nei tantomeno smentite dell'avvenuto scontro, ma dal momento che entrambe le showgirl sono molto attive sui social, potremmo aspettarci anche qualche post a commento del rumor targato Dago.